Buonasera a tutti, ciao Gianfranco, ciao Minilde. Buonasera. Siamo a questo terzo appuntamento della rassegna Biografia della Memoria dedicata alle memorie organizzata dal Comune di Cagli nell'ambito delle iniziative Comitamente 21, delle quali si parlerà poi Minilde Marini, Assessora alla Cultura. Approfitto per portare i saluti anche del Presidente della provincia di Pesaro Rubino, Giuseppe Paolini, che non ha potuto partecipare per impegni presi in precedenza e ringrazio anche per il supporto che la provincia di Pesaro Rubino ha dato all'intera iniziativa. Ecco, aspettiamo un terzo ospite, Carlo Niro, Presidente della Fondazione del 25 aprile di Pesaro e lascerei la parola a Minilde Marini. Buonasera, bentrovati. Innanzitutto vi porto i saluti del Sindaco e dell'Assessora Simona Palazzetti, che purtroppo non riescono a intervenire a questo incontro. Devo fare così alcune riflessioni. Innanzitutto sono veramente grata per questa serie di appuntamenti dedicati alla memoria, perché mai come quest'anno, malgrado le restrizioni in atto, il Comune di Cagli si è sentito così vicino agli eroi della resistenza. E questo grazie appunto ad un particolare programma concertato tra gli assessorati alle politiche sociali e alla cultura, che hanno visto nell'inserimento nello stesso calendario appunto di questi appuntamenti. Il calendario, come Giorgio ha introdotto, dal titolo Comete 20 più 20 più 1, un titolo significativo a livello numerico, significa che quest'anno, che l'anno 2020 non è proprio un anno perso, in quanto lo andiamo a inglobare di nuovo all'interno del 21, quindi ecco 20 più 20 più 1 ha questo significato di continuità e di non aver perso nulla, perché comunque quel 2020 è stato un anno che sicuramente ci avrà lasciato qualcosa, che sicuramente ci avrà dato qualcosa. Magari ci renderemo conto forse successivamente, ma direi che ne siamo pressoché certi. E si parla della cura dell'uomo in questo calendario, quindi da un lato, che cosa intendo dire? Che da un lato, come ben sappiamo, l'arte è necessaria per il benessere e per questa ricerca del senso della vita e dall'altra la memoria, questo momento che si riferisce a questo momento buio e cupo nella storia dell'uomo, deve per forza indurci a riflettere su quale sia la reale natura dell'essere umano e come in fondo l'arte possa essere uno dei modi per cercare di sfuggire diciamo alle losing della crudeltà, troppo spesso seducente, ahimè anche oggi sotto forma di vari modi e di varie tipologie. Nei nostri incontri di questo di questo mese, il terzo appunto legato alla memoria, il quarto ci sarà sabato mattina, arte e senso sociale si sono incontrati, oltre che nello stesso cartellone direi anche negli intenti, soprattutto con una soluzione di continuità, dato che gli eroi presentati lo sono stati attraverso l'arte, l'arte della scrittura, l'arte della fotografia, l'arte della cinematografia, quindi c'è questo collegamento appunto tra cultura e sociale, senso sociale, quindi non è stato difficile per i due assessorati lavorare appunto insieme. Gli eroi reali di cui abbiamo parlato fino ad oggi, di quelli di cui si parlerà anche oggi, diventano così una sorta di intermediari tra l'uomo, e per questo appunto ne va data sicuramente ampia diffusione, e la necessità di sfuggire alle famose losing di qui sopra, di cui ho detto sopra, losing, diciamo nei confronti della crudeltà, uso questo termine perché mi sembra riassuntivo di tutto quello che è stato. Grazie quindi innanzitutto a questi eroi, grazie a chi li fa rivivere ogni giorno attraverso mezzi appunto artistici e non solo, grazie per farci ricordare. Chiudo con una frase di Octavio Paz, che secondo me mi sembra molto calzante, che dice, la memoria non è ciò che ricordiamo, ma ciò che ci ricorda. La memoria è un presente che non finisce mai di passare. Grazie a voi e rilascio la parola a Giorgio Bianconi. Grazie Benilde, siccome siamo anche un pochino in ritardo rispetto ai tempi previsti per dei problemi tecnici, se così possiamo chiamarli, dei quali magari avremo occasione di parlare più avanti, che ci fanno anche capire l'importanza di certe iniziative, l'importanza del ricordare e conoscere la storia per costruire il futuro, per pensare il futuro, perché guardare indietro deve servire appunto a questo. Vedremo questo film, mi avviso molto bello, che evoca anche un po' un cammino, un cammino fatto insieme a Gianfranco, partito da Pianello, partito grazie a Samuele Panichi, che si è portato a conoscere in qualche modo attraverso i suoi ricordi, ricordi della sua agenda e la famiglia Hochbach, che poi abbiamo ritrovato in qualche modo questo viaggio verso Trieste, la conoscenza, l'incontro con la comunità ebraica triestina, che per quanto mi riguarda mi ha arricchito tantissimo, perché è stata un approfondire le conoscenze, anzi certe conoscenze nuove, proprio anche dell'ebreismo, di questa comunità splendida che sicuramente danno valore e fanno anche capire una cosa, cioè parliamo in questo momento di razzismo, di Shoah eccetera, molte volte ciò che blocca e ciò in una scuola, dei ragazzi hanno chiesto ma perché esiste il razzismo? Il razzismo esiste perché esiste l'ignoranza, perché non si conosce l'altro, perché non si è disposti a confrontarsi con l'altro, perché se si conosce l'altro si possono scoprire tantissime cose e il razzismo capisci che non ha nessun senso. Nel frattempo è arrivato Carlo, quindi se vuol fare un saluto ci fa piacere prima della proiezione del film. Niente, volevo ringraziare il Comune di Cagli per questa bella rassegna che mi ha allestito nel mese di gennaio inserendo anche questo filmato su IORBAC. Volevo dire che noi come Fondazione siamo contenti di partecipare e ci siamo sempre per queste iniziative. È una storia, avendola già vista, posso dire avvincente ed emozionante, questa di IORBAC, che è una di quelle tante storie piccole e grandi di cui si era persa la memoria, che grazie a voi due, a Gianfranco Boiani e a Giorgio Bianconi, al vostro lavoro, è stata riportata alla luce e poi è stato fatto questo cortometraggio che, come al solito direi, è perfetto nella sua fattura, come nello stile di Gianfranco, quindi faccio i miei complimenti. Ricordo solo che quando l'abbiamo visto è stato proiettato nella sede della Fondazione, è venuta da Trieste la signora Loredana, la figlia di Abramo, quindi quella serata è stata arricchita anche dalla sua presenza, dalle sue parole, quindi è stata particolarmente interessante ed emozionante. Grazie e complimenti per la serata e vediamoci il filmato. Passerei la parola a Gianfranco Boiani per parlarci un pochino di questo lavoro prima della proiezione, della visione tutti quanti insieme. Grazie Giorgio, buonasera a tutti. Il film documentario che vedremo questa sera è intitolato La resistenza degli Orbach, racconta una storia per molti versi emblematica che ha come protagonisti due fratelli ebrei, Abramo e Isacco Orbach, che si salvarono dalle persecuzioni razziali rifugiandosi, ospitati, nell'entroterra pesarese e che svolsero però anche un ruolo di primo piano nella resistenza. Come Giorgio dicevi prima, giustamente, l'idea del film nasce dalla scoperta del memoriale di Samuele Panicchi, pianellese, dico bene, che fu un leader anarcho-sindacalista in America, ebbe un ruolo anche importante nel movimento sindacale americano, poi fu costretto a fuggire dall'America e ritornò in Italia e qui costituì il primo gruppo di resistenza armata sull'appennino umbro-marchigiano. Nel memoriale Samuele Panicchi racconta dei molti ebrei che gli stesso aveva salvato dalla deportazione, dalla Shoah, dall'Olocausto, nascondendoli sulle montagne, affidandoli a famiglie del luogo. E tra queste persone che lui era riuscito a salvare c'erano gli Orbach e anche da altre testimonianze che Giorgio e io avevamo raccolto in quegli anni emergeva la memoria di questa famiglia originaria di Trieste, di cui però si erano perse le tracce, nessuno ne sapeva più nulla. E così ci siamo messi alla ricerca degli Orbach e, devo dire, grazie al web siamo finalmente riusciti a rintrazzare Loredana Orbach, che è la figlia di Abramo, e il figlio di lei Massimo, che vivono tutt'ora a Trieste, mentre altri membri della famiglia nel dopoguerra avevano fatto l'allia, cioè erano partiti per Israele. E poi, grazie alla disponibilità di Loredana e della comunità ebreica di Triestina, è stato possibile ricostruire una storia, per molti aspetti, come dicevo, emblematica, che ha come protagonisti questi due fratelli, i quali, come dicevo, svolsero un ruolo di primo piano nella resistenza, combattendo nella quinta brigata Garibaldi Peso, in particolare nel gruppo guidato da Samuele Panichi. E poi, dopo il passaggio del fronte, entrarono nella Jewish Brigade, la brigata ebraica, e quindi continuarono la guerra dando la caccia ai criminali nazisti. E, tra l'altro, una delle sorelle, Reisel Rea Orbach, fece anche la staffetta partigiana, quindi rischiando anche lei la vita e dando il suo contributo alla guerra di liberazione delle Marche. La storia degli Orbach si intreccia nel film, come nella realtà, con la storia stessa della comunità ebraica di Trieste, che da secoli svolge un ruolo di primo piano nella cultura e nell'economia della città giuliana. Trieste è una città multiculturale, profondamente multiculturale, è luogo di incontro e coesistenza di popoli e di religioni. E probabilmente proprio per questo venne scelta da Mussolini per lo storico discorso in Piazza dell'Unità d'Italia, era il 19 ottobre del 1938, quando annunciò la promulgazione delle leggi razziali. E così iniziarono le prosecuzioni degli ebrei, la loro progressiva esclusione dalla vita pubblica, dalle attività lavorative, dalle scuole, dalle università. Tutto questo fino alla svolta che avvenne con l'8 settembre del 1943, con l'armistizio, quando poi iniziarono le deportazioni degli ebrei, cioè arrivarono in tedesca a Trieste, e quindi iniziarono le deportazioni nei lager in Austria, in Germania e nel nord Europa. La famiglia Orbach era originaria della Polonia, era arrivata a Trieste all'inizio del Novecento Europeo, in seguito ai pogrom che avevano caratterizzato dall'antisemitismo nell'Europa orientale. Tra l'altro Trieste aveva un ruolo nevralgico in relazione alla persecuzione del popolo ebraico, perché tra l'altro viene chiamata anche Porta di Sion, perché era un luogo di imbarco per Israele da parte di molti ebrei che fuggivano appunto dall'Europa orientale, dalla Russia, dove venivano perseguitati. Abramo Orbach era nato a Trieste nel 1907 e aveva aperto con il fratello Isacco un negozio di ricami in piazza dell'ospedale, ma Abramo era anche un brevissimo giocatore di scacchi, aveva vinto dei tornei importanti, le sue partite vengono anche ricordate, abbiamo trovato anche questo, in libri di scacchi. Però poi in seguito alle leggi razziali gli fu impedito di svolgere anche questa attività. Quando arriva la notizia dell'armistizio c'era chi esultava senza capire bene cosa stava succedendo e Abramo invece che seguiva con attenzione le vicende politiche del nostro paese pensò fosse più prudente andare verso l'Italia centrale e lo fece con i fratelli Isacco e con le sorelle che si portavano dietro anche dei bambini, i loro bambini. Gli Orbach giunsero prima a Fano dove avevano dei contatti, poi si trasferirono sulle montagne e l'entroterra pesarese e come dicevano Abramo e Isacco entravano a far parte della formazione guidata da Samuele Panichi. Samuele Panichi aveva dei contatti presumibilmente con la comunità ebraica, soprattutto con la forte comunità ebraica anconetana perché lui tra le varie cose che faceva vendeva anche stoffe e quindi era in contatto con gli ebrei di Ancona e probabilmente per questo motivo era considerato un punto di riferimento nella possibilità poi insomma di dare un alloggio, un rifugio agli ebrei in fuga. Abramo, nome di battaglia Adriano, Isacco Orbach, nome di battaglia Iso, combatterono quindi nella quinta brigata Garibaldi-Pesaro. Poi nel dopoguerra ripresero l'attività artigianale e commerciale che abbiamo dovuto abbandonare in seguito a delle leggi razziali e mentre altri membri della famiglia se ne andarono in Israele, loro vollero continuare a vivere a Trieste e ripresero la loro attività. Come dicevo, per comprendere le vicende della famiglia Orbach è importante anche comprendere la storia della comunità ebraica che tra l'altro ha collaborato alla realizzazione di questo film e in particolare lo storico Livio Vasieri ci ha narrato nel film la storia plurisecolare della comunità ebraica e ci ha accompagnato nei luoghi della Trieste ebraica e che tra l'altro testimoniano il carattere multietnico e multireligioso di questa città. In particolare la sinagoga di Trieste che vedrete nel film è una delle più grandi d'Europa e ci dà la misura dell'importanza raggiunta dalla comunità ebraica nella prima metà del Novecento. L'edificio risale ai 1912 e fu realizzato per soddisfare le esigenze di una comunità che contava quasi 6.000 persone che però dopo la Shoah, dopo le deportazioni degli ebrei nei lager nazisti si ridusse a circa 500, insomma dei quasi 6.000 in cui gli ebrei che ne facevano parte. All'interno del cimitero ebraico si trova tra l'altro un monumento che ricorda gli ebrei triestini cisi nei lager, oltre mille. Vedrete anche delle immagini della visiera di San Salva, infatti dopo l'occupazione di Trieste, avvenuta nel 9 settembre 1943, insomma subito dopo l'armistizio, i tedeschi arrivarono a Trieste e utilizzarono un ex-opificio per la pilatura del riso, situato in una zona periferica denominata appunto Stan Sabba, per rinchiudere oppositori politici, partigiani, italiani, sroveni, croati e per la verità per quanto riguarda gli ebrei fu soprattutto un luogo di transizione, di sistemazione temporanea in attesa della deportazione nei lager come Auschwitz. Vorrei così chiudere questa presentazione, questa breve presentazione con le parole di Monio Vadia, che come sapete è uno dei più prestigiosi popolari uomini di cultura che si ispira appunto alla cultura iddish, che abbiamo intervistato nel film che è stato molto disponibile e ci ha ricordato il sacrificio dei combattenti del ghetto di Varsavia, che nel momento più buio della storia del Novecento hanno avuto il coraggio e la forza di alzare la testa, di resistere, senza peraltro nessuna speranza di vincere, e per loro è stata la memoria degli uomini a venire a dare il senso a questo sacrificio. Dice Monio Vadia, si sono ricordati di noi, hanno avuto memoria del futuro. Ecco, e questo credo sia anche il senso del film, che dobbiamo agire con questo spirito e costruendo un patrimonio ideale per le generazioni a venire. Vedremo ora il trailer del documentario La Resistenza degli Orbach. Il film è distribuito in un video dalle edizioni AE, Affinità Lettive di Ancona, in DVD, questo è il DVD, ecco, e così come tutta la collana delle biografie della memoria, e il libro, appunto, che riporta l'esperienza realizzata con Giorgio Bianconi della realizzazione del progetto e le sceneggiature dei documentari. Grazie e buona visione. Il mio cognome, Orbach, viene dal Auerbach. Tanti hanno fatto come la mia famiglia, lo hanno ebraicizzato e abbiamo il cognome Orbach. E Orbach vuol dire la luce in te. Questa sinagoga è stata costruita tra il 1904, ma terminata nel 1912. Trieste contava una comunità di circa 5-6 mila ebrei. Poi nel settembre 1938, appunto, le leggi razziali, i più lungimiranti se ne sono partiti già subito. Quelli che non hanno potuto farlo o che erano ottimisti, sono rimasti. Si sono trovati senza lavoro, tutti mandati via da tutti i vari posti, degli scolari, via dalle scuole. Mio padre era giocatore di scacchi e veniva a giocare proprio in questo caffè. Ci sono libri dove descrivono le sue partite. Era diventato campione di taglia di scacchi. A causa delle leggi razziali ha dovuto lasciare tutto. 8 settembre 1943 arrivano i tedeschi. Quando mio padre ha avuto il sentore che stavano arrivando i tedeschi in Italia, ha cercato di farci fuggire, di fuggire lui stesso e di far fuggire tutta la sua famiglia. Siamo stati sul lago Maggiore con un barcaiolo durante la notte, ha cercato di portarci in Svizzera. Allora mio papà era un uomo che si interessava di politica, per cui aveva capito che dopo l'8 settembre non era il caso di rimanere a Trieste. C'era chi aveva soldi e scappava, se era possibile, verso la Svizzera. Qualcuno si è nascosto in qualche campagna. Il mio papà aveva deciso invece di andare a combattere con il fratello e comunque si è portato dietro tutti i fratelli e sorelle a scaglioni e sono partiti per le Marche. Isacco e Abramo Orbach arrivano nel Pesarese nell'inverno del 1944 insieme alla sorella Raizel Lea Orbach. I due entrano nella banda Panichi come effettivi e assumono il nome di battaglia di Iso per Isacco e Adriano per Abramo. Sui monti c'era mio papà Abramo e mio zio Isacco. Loro facevano saltare ponti, strade, tutte queste azioni così, ma non avevano ucciso nessuno. Questo è il labbro della brigata ebraica. Una volta la chiamavano la brigata palestinese. Su questo monumento ci sono 687 nomi, però in realtà i deportati sono stati, questo ha conteggi finiti, diciamo così, e sono più di mille. Intere famiglie che sono state prese, poi portate per un piccolo periodo alla risiera di San Samba e poi portate verso Milano e poi verso Auschwitz e Dachau. Dobbiamo mettere le nostre fibre più intime al servizio di questa memoria. Se tu non vedi l'oppressione, la sofferenza, sei già passato dall'altra parte. La sofferenza, sei già passato dall'altra parte. Sì, veramente, guarda, intanto vi ringrazio. Ringrazio Giorgio, ringrazio Gianfranco perché domani si celebra questa ricorrenza e mi così prendo uno spunto da una frase di Monio Vadia che mi è piaciuta veramente tanto nel dire che non può essere un hacker mess la memoria. Dovremmo ricordarci anche durante, diciamo, tutto l'arco dell'anno, limitarci a questo periodo per sottolineare la resistenza. È vero, facciamo tanti eventi, poi ci sarà il 25 aprile, poi ci saranno altre iniziative. però ecco, magari insieme, visto che quest'anno oserei dire come opportunità il web perché è proprio grazie a questo web che abbiamo scoperto la possibilità di poter fare una serie di incontri sulla memoria. Non lascerei andare, ecco, vi invito e ci invito a noi del comune di poter rimanere con degli appuntamenti fissi, mensili. Vi lancio una provocazione, Gianfranco ti vedo pensieroso, però potrebbe essere, ricordiamoci, ricordiamoci anche per un motivo abbastanza, diciamo, importante che è quello di aver visto nella signora Orbach, io ho visto una certa serenità nel raccontare queste storie. Allora che cosa mi viene in mente? Mi viene in mente che c'è speranza. C'è la speranza di poter dire perché no, continuare a ricordarci di cosa è stato, potrebbe essere veramente un piccolo, una piccola provocazione per poter dire smettetela, smettiamola con questa crudeltà, riutilizzo un termine che ho utilizzato all'inizio, perché non è necessaria, gli esseri umani possono essere sereni e felici e ce l'ha dimostrato la signora Orbach, perché non lo so, ecco, io in lei ho visto una serenità malgrado la narrazione degli eventi, quindi sì la memoria, ma la memoria per non poterci ricadere. Ecco, passatemi questa questa analogia. C'è lo spunto per poter discorrere di tante, di tante cose. Non conoscevo la tradizione del sasso depositato e devo dire che è molto, che il sasso depositato da proprio il l'indicazione della fermezza del ricordo. Quindi ecco, tante cose. Ripeto, vi invito e ci invito a tornarci sopra in prossime occasioni. Grazie, grazie a nome di tutta l'amministrazione e grazie a nome di chi ci ha seguito e di chi ci seguirà, visto che poi questi appuntamenti rimarranno nel web. Bene, grazie a te, insomma, grazie all'amministrazione e anche il tuo contributo che ha accolto numerosi aspetti importanti. E vorrei solo sottolineare come finì che la chiusura del film è appunto con queste immagini di Loredana che rende omaggio al padre appunto deponendo questo sasso sulla tomba. Ecco la parola che in ebraico, shalom, che è una parola di saluto ma che vuol dire pace, che quindi anche conferma quello che, insomma, lo spirito del film, anche lo spirito, insomma, delle cose che hai detto ora o ora, insomma. E comunque sono tante le storie ancora da raccontare, insomma. Noi nel nostro lavoro ormai decennale ci siamo accorti, ci siamo resi conto di quanto ancora ci sia da raccontare e di quanto poi anche l'approccio biografico, raccontare le storie di vita, quindi gli aspetti, non solo gli episodi, ma anche i vissuti più profondi delle persone, poi possa contribuire a farci comprendere la storia e anche comprendere anche in qualche modo attualizzare la memoria che è qualcosa che sempre va in qualche modo ricreato, rivissuto e ripensato. Ti ringrazio, grazie. Vi lancio una piccola provocazione. Proviamo a pensare anche a spettacoli teatrali, sceneggiando magari il film e portandolo in teatro. Potrebbe essere una buona idea. Non c'è Sandro Pascucci, che è il nostro direttore del teatro comunale, ma penso che accoglierebbe questo mio suggerimento anche lui a braccia aperte. Potrebbe essere un'idea anche quella. Sì, sì. Ok. Va bene. D'accordo. Ci pensiamo, insomma. Sì, sì, è un'idea. Una suggestione senza dubbio, insomma. Anche perché poi, anche diciamo, ora che in qualche modo i testimoni diretti cominciano ad esserci più, è sempre più importante lavorare appunto sulle memorie, sulla scrittura, sulle immagini, sull'arte. Quindi questo implica anche da un punto di vista creativo una rielaborazione di questo materiale. Quindi, se ci raccogliere, raccolgo volentieri la provocazione. Grazie. Grazie, grazie a tutti e a questo punto ai prossimi appuntamenti, visto che ho rivolto da Beninze. Assolutamente sì, ci conto, quindi. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Grazie e buonasera a tutti. Grazie a tutti.